E' un nuovo incontro con ASST Lariana nel quale andremo a approfondire ciò che accade nel laboratorio analisi appunto di ASST Lariana e lo faremo proprio con il responsabile della struttura di biochimica clinica e tossicologia forense di ASST Lariana il dottor Luca Ferlin che è il nostro ospite. Ben arrivato dottore. È un argomento sicuramente particolare ma anche che ci svelerà attraverso le sue spiegazioni degli aspetti forse anche inaspettati perché lei recentemente anche in un'intervista ha parlato di tutta una serie di problematiche che sono relative proprio all'uso, all'abuso sicuramente di alcune sostanze quindi intossicazioni da alcol, da farmaci e da nuove sostanze psicoattive. Quindi di fatto siamo di fronte ad una vera e propria problematica? Sì, in effetti ultimamente si stanno registrando diversi casi di intossicazione sia da droghe da abuso classiche, da farmaci, oltre che da alcol purtroppo, ma anche da una nuova classe di sostanze che sono le nuove sostanze psicoattive. Diciamo che l'ASST Lariana sta affrontando il problema e quando per esempio arriva un caso di un paziente intossicato che può essere in coma, in stato soporoso oppure in un stato di agitazione psicomotoria, chiaramente l'ASST nelle varie sue componenti, nelle sue età operative, affronta il problema in modo sinergico. Chiaramente i primi attori che sono coinvolti sono i colleghi del primo soccorso, medici e infermieri del primo soccorso, che accolgono il paziente e cercano appunto di valutare eventualmente le cause di questa alterazione psicofisica per esempio. Perché il medico chiaramente può essere di fronte a un caso di un paziente psichiatrico, quindi una causa primaria, oppure c'è il sospetto che questa persona assumendo delle sostanze psicotrope, magari anche senza sapere esattamente cosa sta assumendo. Quindi in maniera un po' inconsapevole. Esatto, assume queste sostanze e ha un'alterazione della psiche. Per cui i due percorsi assistenziali sono diversi, chiaramente è una patologia psichiatrica o uso delle sostanze. È qui che entra in gioco un'altra unità operativa dell'assistente illariana, che è il laboratorio analisi, direttore dottor Partenope, dove abbiamo costruito un percorso. Un percorso per cui all'inizio vengono inviati dei campioni biologici per esami classici, ma anche la ricerca per esempio dell'etanolo e la sua quantifica, ma anche un primo pannello in urgenza, quindi questo 24 ore su 24, in grado di screenare 34 sostanze, tra sostanze classiche, cioè le classiche sostanze di abuso, ma anche farmaci, psicofarmaci e anche qualche riferimento a sostanze nuove. Un esempio delle 34 classiche sostanze, magari qualcuna? Sì, diciamo, oltre alle classiche, cocaina, eroina, eccetera, abbiamo per esempio messo nel pannello alcuni antiepilettici, alcune sostanze in grado di dare un stato di alterazione, in realtà sono veri e propri farmaci, quindi sono stati correttamente, sono farmaci, ma spesso, come ci è capitato, vengono assunte nel modo chiaramente non corretto, sia da un testa di posologia e di ambito terapeutico, per cui tre casi, tra l'altro minorenni, i soggetti che hanno assunto degli antiepilettici volontariamente, cercando lo sballo, però chiaramente inconsapevoli della quantità assunta, uno di loro è andato in coma ed è stato appunto trattato correttamente, anche grazie al fatto che abbiamo identificato subito nel suo campione urinario queste sostanze, per cui il clinico ha già avuto un percorso, ha già avuto un'indicazione importante per poterlo gestire. È una tendenza in aumento questa che lei ci descrive, ahimè, che la ricerca dello sballo a volte porti ad assumere sostanze di questo genere, da ciò che accade al laboratorio naturalmente? Sì, diciamo che anche i campioni che arrivano dai CERT, ai servizi di tosse dipendenze, vediamo che purtroppo c'è una tendenza all'uso di particolari sostanze che provocano una dissociazione della realtà, un po' come se volessero utilizzare alcol ma non lo usano, quindi un effetto molto simile all'alcol, però chiaramente con i rischi dovuti a tutti i farmaci che hanno degli effetti collaterali. Certamente, torniamo alle immagini e quindi a ciò che accade all'interno del laboratorio. Sì, qui adesso vediamo appunto il struttore Agenza, il struttore Coralab, che è uno dei settori del laboratorio ed è quello che lavora 24 ore su 24, gestisce non solo le urgenze ma gestisce anche tutti gli esami di laboratorio classici, quindi ogni settore, qui vediamo appunto la parte di ematologia, come vediamo adesso, dove subentra poi c'è anche la parte di, la parte grossa diciamo del Coralab, la parte di esami ematochimici e qui vediamo una figura molto importante in laboratorio che è il tecnico di laboratorio biomedico, che è un professionista, a tutti gli effetti, che ha seguito un percorso di laurea che gli ha permesso di avere delle conoscenze molto specifiche e dettagliate sulle tecniche analitiche legate agli strumenti, perché non è lo strumento che dà il dato finale ma è tutto un percorso che viene fatto di formazione, tra cui acquisiscono delle competenze e hanno una grande attenzione su quello che fanno, perché ripeto, abbiamo dati utili al clinico, nel 60% dei casi sono dati molto utili al clinico, per cui dietro ogni campione o provetta che viene prelevata anche in sala prelevino normale, ha refertoci dietro appunto al lavoro del personal tecnico che lavora in modo sinergico tra loro, soprattutto alle urgenze, questa struttura è più carica in assoluto perché lavora... Sulle urgenze naturalmente 24 ore su 24 immagino, certamente. Dottor Ferlin, lei ha citato appunto le nuove sostanze psicoattive, ci spiega un po' meglio per gli amici a casa, di che cosa si tratta? Sì, sono in realtà un gruppo molto eterogeneo di sostanze, ma per renderlo più pratico si può suddividere in tre grossi gruppi. Abbiamo sostanze naturali presenti da sempre che sono state chimicamente modificate nel tentativo di fare un farmaco, non sempre la volontà era cattiva. E poi abbiamo un altro gruppo di, diciamo, un utilizzo non proprio conforme appunto di farmaci, come facevamo ad esempio prima, o di sostanze naturali presenti da sempre la boiasca, piuttosto che il kratom, per cui presenti da sempre, non è mai morto nessuno perché era usato nel contesto corretto, in un atto devinatorio. Però se utilizzati, magari comprati da internet, dove la quantità è estremamente pura, non sono 4 mg, ma sono 40 mg, a questo punto si gioca un effetto pedosto grave. Quindi internet gioca un ruolo significativo in questa situazione? Molto, perché per esempio nell'ultima classe di farmaci di sostanze, che sono sostanze chimicamente nuove, non si conosce nulla, ma agiscono su parte del cervello, su recettore del cervello che già conosciamo. Non è capitato un caso di un soggetto arrivato a un pronostoccorso, che è in uno stato di agitazione psicomotoria, e abbiamo capito dalle analisi che inviate dal pronostoccorso, il medico del pronostoccorso ha avuto l'intuito di capire che c'era qualcosa di diverso rispetto al normale, ma abbiamo appunto identificato una sostanza che su internet è venduta come fosse un antirepressivo. Quindi come si compra su internet tutto quanto si è lasciato trasportare da questa cosa, anche perché il sito, mi dicevano che non era un sito brutto, c'era un medico che riscriveva i sintomi. Quindi sembrava attendibile? Sembrava giustamente perché sembrava attendibile, per cui l'ha acquistato, chiaramente sì, ha un effetto inepressivo, onestamente, da un punto di vista farmacologico, però chiaramente non c'è dietro un medico che prescrive il farmaco, non c'è nessuno che lo segue. Quindi in realtà la causa di intossicazione è stata appunto questa sostanza, poi il paziente viene seguito, ma appunto è un percorso assistenziale, per quella fine c'è anche una parte legata appunto a psichiatri e psicologi che spiegano al paziente che è successo per evitare appunto che ricada, perché molto spesso chi tenta il suicidio tenta di rifarlo. Quindi c'è proprio un percorso, l'assessibilità è un percorso anche in questo tipo di ambito. Ecco, detto questo, allora dottor Ferlin, quali sono di fatto le intossicazioni più frequenti e magari anche le fasce d'età più coinvolte? Abbiamo gli ultimi due minuti a disposizione prima di salutarci. Prego. Passo breve. È cambiata un po' la tipologia di paziente intossicato, non c'è più l'intossicazione d'eroina o barbiturici. Abbiamo magari l'intossicazione da farmaci che il paziente assume tutti i giorni, poi per un momento di fragilità decide di assumere in grosse quantità e viene intossicato. Parliamo sempre di antidepressivi? Antidepressivi, benzodiazepine, antidepressivi e antipsicotici. Oppure l'ultimo paziente, purtroppo quella che mi preoccupa di più, sono appunto i ragazzi che li assumono con leggerezza e poi vanno appunto in conto di antossicazione. Questo è che ci preoccupa di più in SST. La sua sensazione davvero in battuta conclusiva è che questa, immagino sia un fenomeno recente, immagino. La sua sensazione è che questa sia una tendenza che potrà aumentare o che magari grazie all'informazione o ad altri percorsi si potrà riuscire in qualche maniera ad arginare? Ma io credo che informando i ragazzi senza spaventarli, sono sempre l'idea che la gente venga informata e non spaventata. Credo che in questo modo, anche parlando con le scuole, si riesca a far capire che c'è un danno, c'è un rischio di antossicazione, non è tutto così semplice come viene venduto, come viene messo su internet appunto così. Quindi credo che con l'informazione corretta, spiegando, si possa arginare il problema. In ultima battuta, l'uso di queste sostanze può dare dei danni irreversibili al soggetto? Alcuni cannabinoidi sintetici sì, perché sono molto potenti, da 50 a 100 volte più potenti della classica cannabis. Grazie a Dio nei nostri casi sono stati tutti recuperati, non c'è mai stato un danno grave o un decesso per fortuna, quindi questo sì, quindi non siamo ancora a questi livelli. Però sempre grande attenzione. Io saluto e ringrazio il dottor Luca Ferlin per essere stato mio ospite e a Sestilla Riana naturalmente. Grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi per averci seguiti. Prima di chiudere, come sempre, ricordo la nostra mail. Continuate sempre a scrivere ad angolichiocciolaespansionetv.it e continuate a trascorrere la vostra serata con noi seguendo la nostra informazione. Grazie a tutti.